Buonasera a tutti, questa sera siamo tutti riuniti al Pizboe per una cena sempre Kers e questa sera il mio piatto è stato così composto, dei conchiglioni cotti in un'acqua di fieno, animelle saltate, erbe di campo, patate soffiate, crema di patate al sifone e un po' di polvere di patata sopra, tutto quello del mondo della patata che si può raggruppare in un piatto l'abbiamo fatto con l'aggiunta di un'animella, questo è un po' il concetto di Kers, il concetto di sfruttare tutto, di non buttare niente e di essere sempre sereni e felici perché senza Kers non si può andare avanti nella vita, Kers non è una scelta, è uno stile di vita, ricordatevi!